Perché ti prendi la Nutella a quest'ora? Perché sono triscono io Cos'hai? Boh, non lo so, c'ho bisogno di Nutella Dai, se li fai diretti così spegni perché sei inguardabile Sono inguardabile? Ho parli di cose serie e ho chiudito Ce la posso fare Allora Chiamassi dai, lo stai zitta Guarda mentre dormi pure Urguà Non so come si dice Io devo andare a finire di studiare Faccio così Leggo Sottolineo E domani ripeto No Come faccio? No vabbè dai Adesso mi organizzo Non lo so se mi organizzo Go little rockstar Go anche voi eh Fate quello che dovete fare Io come tua mamma L'arma del delitto Giulia è sempre la Nutella No No, non abbandonarci Cosa faccio? Studio con voi? No No Non andare No 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 No